Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Do It Your Self Ispirazione. Oggi parleremo di cucina e creeremo delle spiziosissime praline con del cioccolato bianco e naturalmente i nostri buonissimi speculatius, i nostri buonissimi biscotti natalizi. Allora come potete vedere abbiamo bisogno davvero di pochissimi ingredienti tra cui naturalmente la copertura al cioccolato e 4 biscotti. Queste sono circa 200 grammi naturalmente poi delle spezie per intensificare ancora di più l'aroma e naturalmente una forma al silicone dove creare le nostre praline. Naturalmente potrete scegliere le forme che più vi piacciono. Allora naturalmente come prima cosa andremo a fondere il nostro cioccolato a bagnomaria in questo modo e naturalmente a spezzettare i nostri biscotti. Ecco qui, una volta che il nostro cioccolato è fuso andiamo ad aprire le nostre spezie e versiamo circa metà del contenuto della busta. Ecco qui, andiamo a mescolare bene e poi andiamo a versare i nostri biscottini sbriciolati. Ecco qui, una volta che il composto è amalgamato bene non ci resta altro che riempire con molta attenzione le nostre formine di silicone. Ecco qui, come potete vedere io ne ho riempita anche un'altra visto che c'era ancora un pochino di prodotto e adesso naturalmente dovranno raffreddarsi e rapprendersi in frigo per circa due ore. Trascorso il tempo in frigo dovrebbero avere questa consistenza. Adesso le togliamo dalla formina. Eccolo qua, i nostri cuoricini, anzi le nostre praline di cioccolato bianco e speculatius. Ecco qui. Ed ecco qui finite tutte le nostre formine. Come potete vedere è stato veramente semplicissimo ed è una ricetta davvero gustosissima e anche non molto tradizionale. Naturalmente spero che il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto regalatemi un mi piace. Non dimenticatevi di abbonarvi al nostro canale e naturalmente ci vediamo sempre qui la prossima volta su Do It Self Ispirazione. Ok? Ciao!